La popolazione degli scoiattoli grigi americani in Umbria per anni sono stati una minaccia per quelli rossi, ci dice tutto Filippo Pala. Torna lo scoiattolo rosso nei boschi Umbri e perfino a Perugia. E' il risultato principale del progetto You Save Reds per la salvaguardia degli esemplari europei e autoctoni minacciati in tutto l'appennino dall'arrivo dello scoiattolo grigio americano, introdotto a scopo ornamentale e diventato subito una minaccia per quello nostrano. I risultati sono stati illustrati a Perugia dai partner del progetto Ispra, Oikos e Regione Umbria con l'assessore Fernanda Cecchini che li ha definiti assolutamente positivi, anche per quanto riguarda il capoluogo dove c'è stato un ripopolamento nel percorso verde di Pian di Massiano e nell'area di Monte Malbe. Lo scoiattolo grigio, incluso nell'elenco delle 100 specie invasive più pericolose, ha visto una riduzione della sua densità media in Umbria da 3,37 a 0,31 individui per ettaro e la sua presenza si è ristretta da 35 a 3 chilometri quadrati del nostro territorio. Nel gennaio di quest'anno è iniziata la fase di incremento degli scoiattoli rossi presenti a Perugia e a Reli Mitrofe, con una coppia di animali prelevati a Ponterio e rilasciati con successo nel percorso verde. Nel lungo periodo gli interventi di miglioramento ambientale previsti dal progetto dovrebbero poi rendere più semplice la situazione. In particolare, dalla fine del 2017 è iniziata nei due parchi cittadini la piantumazione di 70 piante di nocciolo che forniranno l'abitat ideale agli scoiattoli rossi umbri.